Cambio di Pinto, presidente di Figo, una Figo sempre più forte, autorevole, rappresentativa. Perché? La ricerca è importante per i pazienti e a mio avviso è importante per il Paese da un punto di vista di evoluzione del sistema Paese, ma anche da un punto di vista economico per l'Italia. E' importante avere l'attività di ricerca, avere dei gruppi cooperativi come sono presenti all'Intendo della Figo che siamo cresciuti, adesso abbiamo 16 gruppi cooperativi con l'ingresso di Forte all'Intendo della Figo e praticamente è tutta la ricerca italiana. Questo è importante perché permette di avere studi condivisi tra i gruppi cooperativi, favorire l'arruolamento dei pazienti, dare maggiori qualità agli studi e a livello internazionale dà più peso al nostro Paese. La giornata di oggi qui a Rumi è andata fortemente in questa direzione, il nostro peso specifico aumenta, aumenta a mio avviso le connessioni anche a chi fa ricerca al di fuori dell'oncologia, dei tumori soliti, penso a Fadoi, penso a Gimema, penso al Gidmo con cui c'è una forte collaborazione e a mio avviso è venuto fuori oggi anche una buona interazione con il mondo delle istituzioni, con il Ministero della Salute, AIFA, Istituto Superiore di Sanità. Andiamo avanti in questa direzione, sono ottimista, possiamo modificare il sistema ricerca del nostro Paese, abbiamo iniziato un percorso peggio che andremo avanti in questa direzione.